Vuoi imparare a mangiare sano e ad avere corretti stili di vita? Vai a scuola! È qui infatti che i ragazzi possono riscoprire il legame con la terra e con il proprio corpo. La pandemia ha messo in evidenza che una parte dei nostri bambini e dei nostri ragazzi trovano il cibo salutare a scuola perché poi c'è una dimensione di perdita nel tempo delle famiglie per la fatica del loro vivere e anche per la fatica economica. Quindi la ristorazione viene ad avere una fondamentalità non solo sul piano materiale ma proprio sul piano culturale. Va quindi sostenuto il settore della ristorazione collettiva perché nel momento del pasto a scuola troviamo qualità della nutrizione e al contempo cultura del cibo. Su questo si sono confrontati docenti ed esperti del settore in occasione dell'evento Nutrire il futuro, dare valore al cibo nella scuola. Abbiamo organizzato questa mattinata al Cheer Food District per cercare di diffondere una cultura sana dell'alimentazione, una cultura che è ancora a pannaggio di pochi ma che è così importante proprio per la salute e il benessere delle generazioni future, a partire quindi dalla ristorazione scolastica. Una ristorazione come spiegano da Cheer Food che ha un valore sociale e strategico importantissimo e che è fondamentale per combattere le disuguaglianze, la povertà educativa e nutrizionale e soprattutto ha un'incidenza molto forte sulla salute pubblica nelle nuove generazioni. Purtroppo però in questi anni di crisi tra pandemia, inflazione, crisi energetica, siccità le imprese stanno affrontando da sole questo momento perché i costi sono lievitati in modo incontrollato e purtroppo non ci viene riconosciuta la revisione prezzi in base agli indici Istat. Anche per questo motivo il nostro settore è sceso in piazza il 23 marzo scorso, non contro il governo, non per minacciare scioperi o fermi del servizio, ma proprio per cercare di porre l'attenzione su un settore così importante, tant'è che viene riconosciuto come servizio pubblico essenziale e quindi strategico per il Paese. È welfare pubblico a tutti gli effetti. Una richiesta raccolta dal sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti, intervenuta al dibattito. La ristorazione collettiva viene data troppo spesso per scontata e di rado viene ritenuta una condizione necessaria per l'educazione degli studenti. Sarà mia cura, ha detto, portare all'attenzione del governo questa situazione di criticità.